Non per caso ho messo alle mie spalle il libro Sempre Milan che ho scritto ed è uscito un anno fa insieme a Umberto Zappelloni. Là ci sono tanti numeri, tante cifre. A proposito, sempre un bel regalo di Natale questo Sempre Milan, come i regali di Natale che ci stanno facendo i ragazzi in campo. Però stavo dicendo, ci sono tante cifre e tanti numeri. 8 vittorie nelle prime 10 partite e il Milan era riuscito a conquistarle nel campionato 54-55. Si parla dell'epoca di Nordal, ma prima di andare sui numeri, poi andremo sui numeri, vi mostrerò una grafica molto interessante. Ecco, non voglio mai parlare d'altri. Sapete che nella mia rubrica, nel mio video, parliamo di Milan, 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 Milan. Niente polemiche, niente riferimenti. Stiamo a casa nostra, che viviamo benissimo. Ma mi sembra che siamo un po' trattati da quelli da parvenuti. Si sta parlando di un Milan con 7 Coppe dei Campioni, 7 Champions League. Si sta parlando di un Milan con 18 scudetti. Ah, finalmente, dopo tanti anni, anche alt. Dopo tanti anni ce lo possono dire solamente i tifosi della Juventus, perché ha vinto solo la Juventus. Gli altri tifosi, per loro sfortuna, per nostra sfortuna, per loro sfortuna, non hanno vinto nulla. Se non qualche Coppa Italia, il Milan ha vinto in questo decennio, un decennio di tinte bianconere, ha vinto comunque uno scudetto e due supercoppe italiane. Non è il Milan abituato a non vincere in campo internazionale, però questa ha detto la storia. Quindi non è che siamo dei parvenuti, siamo dei finalmente anche il Milan. No, 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 no. Si sta parlando di una squadra fra le più conosciute al mondo, top mondo, e quindi che è tornata per adesso in testa alla classifica. Altro punto importante. State già festeggiando? Non festeggia nessuno. Il titolo del video è chiaro. Non stiamo festeggiando, ci stiamo divertendo. Perché il Milan è una squadra compatta, divertente, spettacolare, unita, seria, con un ambiente serio, senza polemiche, tutti che remano dalla stessa parte, senza distrazioni. E quindi questo, unito ai risultati sul campo, ci sta facendo divertire. La domenica e il mercoledì, che negli anni scorsi, è vero, erano sempre vigiglie e momenti di passione, di un po' di sofferenza, mai di certezze. Nel calcio di certo non c'è nulla, però quando entri in campo vediamo una squadra unita, una squadra coesa, una squadra dalla precisa identità, dalle precise strategie, e tutto questo ci diverte. Siamo tornati a vedere un Milan con tante qualità che ha sempre avuto nella storia del Milan per 120 anni. E quindi nessun festeggiamento, anche perché non c'è nulla da festeggiare. C'è da festeggiare settimanalmente la gioia, c'è da festeggiare la vittoria e il risultato, settimana per settimana. Ci ricordano che il campionato è ancora lungo, lo ricordiamo noi a tutti gli altri che il campionato è ancora lungo. Ci stiamo, non stiamo festeggiando, ci stiamo divertendo. Si stanno divertendo i tifosi del Milan che hanno vinto 50 trofei in 120 anni, che sono abituati a stare in cima al mondo e che quindi sono abituati a stare in cima. Sono tornati dove sono abituati a stare. Non siamo lì improvvisamente in un posto che non conosciamo. Il posto che non conosciamo era quando eravamo sotto, non quando siamo sopra. Precisiamo subito, il posto che noi conosciamo è questo, non quello dove siamo stati 5-6 lunghissimi anni e abbiamo vinto, e abbiamo vinto unici fra le altre squadre extra. Juventus in questi 10 anni l'ho scudetto. Lo scudetto, oltre alle Juventus in questi, dal 2010 al 2020, l'ha vinto una squadra sola oltre alle Juventus. Il Milan, quindi gli altri che pur sono arrivati, i secondi, i terzi, che partecipano alla Champions League, devono assolutamente guardare e dire «Ah, siete tornati dove siete abituati a stare», perché sotto non eravamo abituati a stare. E grazie al mio amico, parlavo oggi al telefono con il mio amico Peppe Collega, Peppe Di Stefano di Sky, abbiamo parlato anche di cifre, di numeri. Vi ho ricordato la cifra degli otto partiti nelle prime dieci, ma guardatevi questa grafica. Sono cifre straordinarie i dati incredibili di un Milan che ha un cammino strabiliante, e vi invito a leggere queste cifre, che confermano quanto sia giusto che il Milan sia in testa della classifica. Milan che ha cominciato a volare dopo il lockdown e che ha tenuto un cammino straordinario. Adesso appaiono le grafiche e io ve le leggo. Nel 2020 98 punti in 43 gare, 2,27 di media. Pre-lockdown in campionato 4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 15 punti, 2 vittorie e un pareggio, 7 punti in Coppa Italia. Gol fatti 20, gol subiti 13, media punti 1,83. Post-lockdown, campionato 17 vittorie, 5 pareggi, 56 punti, un pareggio in Coppa Italia, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta in Europa League. 76 gol realizzati, subiti 32, media punti 2,45. Altri tre dati incredibili, 30 gare consecutive che il Milan va in gol in campionato. L'ultimo clean sheet per il Milan e Milan-Sandoria del 6 gennaio 2020. 12 partite consecutivi in A con almeno 2 gol all'attivo, 30 fatti, 10 subiti. Subiti nel post-lockdown, 6 partite di A senza Ibrahimovic, vinte tutte. Lecce, Roma, Crotone, Spezia, Fiorentina, Sandoria. Vi bastano queste cifre? Sono chiare queste cifre? E dunque non è che queste cifre mi servono per spiegare qualcosa o per giustificare qualcosa o per chiarire qualcosa. È una soddisfazione nostra dei tifosi del Milan che si stanno divertendo, che stanno apprezzando un Milan che ha un gioco, un'identità, una linea di una filosofia, una strategia, tutti i motivi per cui ecco perché ripeto il mio titolo non stiamo festeggiando ma ci stiamo divertendo. Anche sui social c'è questa euforia, era un po' di anni che il Milan non era là da protagonista. Vincere non è facile, però quello che avevamo spiegato anche gli anni scorsi non è la vittoria, vinci vinci solo uno, ma essere protagonisti, non essere a settembre a 20 punti dalla Juventus, non essere a ottobre a novembre sempre più indietro dalle prime. Questo era umiliante, non il fatto che il Milan non abbia vinto perché ripeto ha vinto solo una squadra in questi anni, una sola, le altre non ha vinto nulla, nessuno. Anzi, fra quelle che ha vinto di più, l'ultimo campionato, lo ripeto, il Milan, e le due supercoppe. Quindi a noi interessava ritornare a giocare e a essere protagonista da Milan. Primo, secondo, terzo, una volta vinci e una volta arrivi secondo, ma sei sempre là, sei sempre là. E queste cifre confermano che il Milan ora è là, nel posto che gli compete, in casa sua, in cima, dove si respira l'aria rarefatta, non sotto dove si ispirava i miasmi, dove c'è l'aria soffocante. È lì che il Milan non era stato mai abituato a essere, salvo in casi eccezionali, e quindi siamo felici a respirare l'aria da Milan, l'aria dei primi posti, l'aria del primo posto. E i numeri lo confermano, grandi numeri. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.